...e si va piano piano verso la serata, come diceva Ilaria anche verso aperitivo, perché secondo me il sedice 12 è proprio l'orario perfetto, estivo, legittimo, per poter accettare, perché no, per lo simpatico, capisimo, fatemi sapere, rispettare, vado. Più di bello, più di vita, basta. Vabbè, vedi il foro di scatola, qua. E poi la sera è fatta, dopo le sparite. Il tuo cancro. Come si, allora, vedete che il filo della ramo, dovevo la nabla, se almeno dopo, che avevo la carriela, se almeno dopo. Allora, vedete che lo passassi dai spunti. Dopo le scheletri in giro, a par come il disegno è migliore. Allora, vedete che questo tubo, se ria un giro tutti io, non se ne mette. Anche. Sì va, eh?